Registriamo le solite 24 ore per 10 minuti di freestyle, no? Ah, oggi solo 24. Oggi solo 24. A destra. Ma partiamo male, Jackie Koff ha sbagliato, io ho ucciso una persona. Sì, a ver, il disastro. No, non so, si è staccato, si è staccato. Tienila, tienila che sono due. Abort, 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 abort. Cazzo, 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 cazzo. Cura a muro, non penso, ci vanno. Centro. È dritta, oh, peccato. Voglio fare il giro, voglio fare il giro. Il giro della muerte. Eh, sì. Anche diretta? Ah, muro, ok, allora aspetto. Boh, no, cosa? Eh, cosa? Cosa, cosa? Cosa, cheater? Cheater? Come cheater? Ti giuro che l'avevo toccato, allora ho convinto, ho detto, ah, posso già, sono bravissimo, sono subito presto. Ah, bomba, 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 bomba. Più di questo non potevo. È che più di questo, cioè è arrivata a basso e schifoso. Non è arrivata a basso, non è, ti voglio dire una cosa, ma quel busto lo puoi cambiare che stai inquinando mezza Italia e di quella roba. Guarda qua, vieni qua. Salto da dietro di te. Ma che... Ma... L'ho lasciato a muro. Ma se... Salto dietro di te. Qual motivo? Nooo. Cazzo è vinto. Fallo tu. Champion 3, ragazzi, Champion 3. Te la parlo. Cosa vuoi? Vieni come me. Mi sospettano... Mamà, come sei morto maaaale. Guarda qua. Nooo. Mamma mia. Raffa. Guarda che mi... Guarda che non riesci a prendere il busto. Mi ha rubato il busto. Mi ha rubato il busto. Lotte di merda. Vado dal... Vai al centro, vai al centro. Guarda passa qua. Guarda passaggio. Eh? Mamma. Era anche freestyle, lo sai? Ah si? Era anche freestyle. E ho provato a spingerti e alla fine non ce l'ho riuscita. Guardami in volo, guardami in volo. Guarda è bello, guarda è bello, guarda è bello. Ho fatto due giri. Non si è visto niente. E' mister. E' mister. Super freestyle, super freestyle. Ehm... Sì. Dimi super freestyle. Dai dai dai, passa, passa, passa. Dino su di me? Aaaaaaah, peccato. Nooo. Volevo fare lì le cose brutte. Fake? E sta succedendo lì? Guarda la scena. Guarda. Aspetta. Ma che cazzo. Lui muore. Ma guarda che schifo di persona proprio. Nell'essere umano. Ci arrivi? Freestyle, freestyle, freestyle. Freestyle, freestyle, freestyle. Freestyle, freestyle. Freestyle. Backward, backward, backward. Uuuuh, freestylone. Alleluia. Sei deciso a saper fare qualcosa. Quando tu segui quello che ti dico. Quando tu segui quello che ti dico, ce la facciamo giusto? Ma stai zitto. Per farla bene. Non importa. Non avevo boost. Avevo 41 boost. Non lo so. Sono al centro. Un tocco leggero al centro. Di nuovo a te. No. Dai, come l'abbiamo fatto? È un miglioramento, no? Ah, ok. Sono pazzato se lo sei io ora qui dovevi andare a mangiare. Ti prego, fammi mangiare. No. Si mangia quando si segna. Un boccone, eh. Accolto. Alza, alza, alza. Oh! Magnus. Io, anzi, questa cosa deve fare? Non è freestyle questo? È freestyle. Questo dice ok. Ho il dubbio. Boom! Ma che ce l'hai? Ma che azione! Alto che freestyle. Questa è un po' bella. E l'ho dosata anche bene. È proprio azioncione, proprio da... Lo ce l'ha? Non ce l'ha! Ho fatto freestyle? Certo! Ora lo vedi il freestylone. Oh, lo voglio vedere. Guarda il freestylone. Eeeh! Eeeh! Ho dopo il tempo di fare quello. Quasi mezzo giro. No, un giro completo c'era. Mi sono confuso, mi sono confuso. Mi sono sbagliato a scordare. Mi sono sbagliato a scordare. Mi sono sbagliato a scordare. È bellissimo. Aspetta, forziamo. Sì, sì, va tenere il lancio. Ancora il boost. Arriva. No, non ho boost. Eh, te l'ho fatto verso di te comunque. Puoi farlo a backward? No, no, no. Non ci ho creduto mai. Sono ancora io. Puoi farlo a mezzo a backward? No, non ci ho creduto. Lascia stare. Backward solo ci credo. Vabbè, vabbè. Vedi, quando ci devi credere non ci devi credere. Quando non ci credi ci devi credere. Vabbè, la smettiamo. No, il passaggio in Mognus. Ti odio, l'hai sbagliato. Cioè, non solo riesco a capire che stai per fare quello. Ti lamenti pure. Lai, ti arrivo al centro. Freestyle? Dai, la. No. Come no? Era mezzo, dai. Non ho fatto neanche mezzo giro. Puoi considerare più stai. Ma neanche un quarto. E quello ho detto. Non era neanche mezzo. Ma ma pinci. Madonna. Madonna. Faccio io. Cos'era il boost? Non so. Non c'è niente. Ma no questo. Ma no, ce l'ho preso ora. Bello. Easy. Easy. Dragonator in left of the match. Ho provato. Ah. Madonna. Ho spinto, tira, tira, tira! Ho spinto. Non posso. Aspetta. E che devo fare? Ah ci ho provato Volevo tirartelo addosso Avevo pure preso il busto volando Stavo prendendo la mira per puntarti Che angolino sinistro Ma male Ma male Questo lo carino Guarda qua Cos'era I miei raccini di pensile Madonna Ma l'ho scoppiato con l'auto Freestyle Guarda con l'auto l'ho scoppiato Hai fatto freestyle Oh attenzione Dai che in 7 ore due tentativi Sennò cos'è questa sinistra Cos'è questa è destra sei scemo No era Minchia la destra Ce l'hai ce l'hai ce l'hai forte forte in avanti forte 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 A te di nuovo No non ho più busto Dove è che cittadini si avrebbero arrivato Non so se ho intenzione di contrarla Oppure no Ma che cazzo mi spingi? Animale è bestia schifo Tagliala questa mi raccomando Stronzo Non ci devi sapere come mi tratti Madonna Eh mi si è fottuto la cosa Ma che coi 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 Ah spesso ce la faccio Passi ma passi ma passi ma Ma fai schi Eh Dai zitto L'ho passata Dai zitto Avanti Ce l'hai solo due Buona 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 Era un po' freestyle Era un po' freestyle Guarda questa è il vino Non le avrò più Ci ritroviamo Sub-Zero Sub-Zero Finalmente Sì Sì Veramente Sì Che mi fa schifo Ma sì 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 No è bello No fa schifo Ma mi piace Mi piace Non beccavo un black market Da Fa schifo Ma mi piace Da quanti mesi è che non beccavo un black market Da quando sono le casse Champion 1 e Champion Uno Già Champion 2 Champion 1 e Champion 1 Champion 1 e Champion 1 Stai con fake Dove cazzo Ma non l'ho controllato Ah beh Non niente Niente Eh no C'è il cervello che è andato in vacanza Vabbè Con sto caldo capi Ah eri tu Pensavo fosse l'avversario da tre ore Ti odio Dice Ma quando passa E quando passa Perché non mi bombardo Perché non mi bombardo Sì no Non mi bombardo È ottima Ma che cazzo Volevo farla proprio drop per te Veramente Non volevo tirarla Ha perso l'altro mondo È uscita male La mia è uscita Salto No Oh A te No Che angolo Ma l'ho visto Ma l'ho visto Ho visto anche la lag Comunque Eh pure a me Penso sia proprio roba di server Perché pure a me è successo Mamma Stava a fare una roba assurda Ti spingo Ok 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 Vabbè Noi insomma ho fatto il freestyle spingendo il compagno Ti avevo usato Guarda che figa È come se un bullo si avvicina a un bobbio Ti stavo a prendere a punto Ok Da voi È buona Riesco Riesci Riesci Un altro tocchettino Tu 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 No no tu 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 No tu tu No tu Ero staccato E per me aspetta per il tocchetto Battuta Tartle Che significa La rega ha funzionato Finiscila Finiscila Oh Mamma Ho fatto proprio due giri Grazie alla battuta Tartle Grazie Sì sicuramente Questa finisce negli anali del freestyle Battuta Tartle La riprendi in cara La mando sul muro Di bomb in freestyle E' battuta Tartle Ce lo fa E' abbomba No Vabbè non ci potevi fare tanto Battuta Tartle Eh no La battuta la Tartle Dai Boh Mangolino Mentre sei fotte Dovresti fare lo di dubbe Perché parli E' curioso Oh E' trick Ho un parola Ho bombato lui Cos'era quello Cos'era Cos'era Le cose fighe Arrivo Centro Centro Dai che è un'azione figa Nooo Bene Questo è tutto Se è prossimo Un milione di mi piace Ah c'è una cosa Se questo arriva a mille Facciamo il prossimo Se no niente Amuni Ah proprio la mano Il pugno di ferro Cioè Come facciamo come youtuber importanti E mille Mi piace Se no niente video Perché Tanto poi lo faccio comunque Perché Vabbè No 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 Vabbè tranquillo Poi gli altri 999 account li faccio io Poi li facciamo noi No? A posto Perché tanto Servono i soldi E devo fare i video Perché devo guadagnare 10 euro al mese Va bene 10 euro 10 euro quando va bene Per i video di grossa Ciao 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 Non stavo registrando Dispar Just can't break